Questa sera la Sinfonica di Sanremo porta in scena, in casa, i successi del festival. Quell'apertura pop che negli anni si è sempre chiesta alla Sinfonica adesso arriva tra l'altro nella casa del festival in una location meravigliosa. Sì, la location è bellissima. Cominceremo stasera con quello che noi chiamiamo il crossover, quindi stasera sarà dedicata ai più grandi successi del festival delle canzoni che hanno partecipato al festival di Sanremo. In verità noi la stagione l'abbiamo aperta lo scorso 24 giugno con l'esecuzione della Sinfonia numero 9 di Betone. È stato un grandissimo successo soprattutto di pubblico e di questo siamo veramente molto contenti. Stasera a Vanessa Tagliabue ci condurrà con un bellissimo percorso nel tempo e nello spazio dei grandi successi del festival di Sanremo. Un bellissimo appuntamento alle 21.30 all'auditorio Malfano e speriamo di avere lo stesso successo di pubblico che abbiamo avuto lo scorso programma. Non vogliamo annunciare i titoli ma che fascia di tempo abbraccerà la programmazione di questa sera? Dal 58 in avanti, quindi veramente è stata una bellissima ideazione di programma perché fa un exursus temporale molto interessante. Vanessa sarà bravissima stasera anche a condurci per mano perché comunque ci spiegherà prima di ogni canzone qualcosa, ci darà due parole e pian piano effettueremo questo viaggio. Questa sera l'auditorio Malfano di Sanremo va in scena la storia del festival, tra l'altro nella città del festival, quindi partiamo subito dalle emozioni, cosa si prova a portare la storia della Kermesse qui dove è nata e dove vive tuttora? È una responsabilità culturale perché noi abbiamo fatto una scelta estetica nel recupero di brani che sono stati un po' dimenticati e che erano straordinari e che hanno lasciato spazio ad altre forme di intrattenimento e oltre a essere una grande responsabilità è un'emozione profonda. Pieri sera ho visto Peppe Vessicchio che camminava per la strada. Qual è il tuo rapporto con il festival, con la canzone vissuta nella sua essenza pop nella Kermesse Sanremese? È un rapporto che si è interrotto quando avevo circa dieci anni, che però era molto intenso quando ero bambina perché ascoltavo sempre il festival di Sanremo. Mi ricordo che il mio preferito di una certa edizione degli anni forse 90 era Pierangelo Bertoli, avevo imparato benissimo la sua canzone e ballavo per tutta la casa cantando Spunta la luna dal monte. Poi è cambiato qualcosa e io sono diventata una jazzista e ho smesso di guardarlo. Però adesso ricomincerò se le musiche diventano belle come quelle che vi faremo sentire stasera. Credibile come condividiamo lo stesso ricordo del festival di Sanremo. E questa sera che festival porterà in scena qui all'auditorio? Il festival delle grandi voci, dei grandi autori, dei grandi compositori, il festival della musica, della canzone. E cosa si prova a collaborare con un'orchestra come quella di Sanremo? Si prova un'emozione profonda, è come se quello che tu stai esprimendo fosse riverberato attraverso una quantità enorme di musicisti, di strumenti che tutto attorno a te lo fanno rimbalzare contro le pareti del mondo. Ecco, infine questa può essere la dimostrazione di come la musica pop sanremese e la musica diciamo più, non chiamiamola ricercata, ma più elaborate di un'orchestra del mondo jazz possano coesistere e coinvivere. Si è assolutamente una grandissima dimostrazione perché come ho già avuto occasione di far notare le canzoni che ho scelto per struttura armonica o melodica contengono delle caratteristiche, chiamiamole così per non rendere difficile il discorso, che accomunano le scelte compositive di diversi generi musicali della musica leggera, perché il jazz è una musica leggera.